E l'ospedale delle contraddizioni, eccellenze e mancanze, eccellenze mediche e infermieristiche, mancanze mediche e infermieristiche di attrezzatura. L'ospedale di Locri sta vivendo un momento veramente difficile, a rimarcarlo questa volta, e il dottor Francesco Adamo, primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Locrese. Adamo è un'eccellenza della sanità regina e per tale motivo nei giorni scorsi ha ricevuto il premio Paolo Harris, etica delle arti, professioni e mestieri, promosso dal Rotary Club di Locri. Doti umani e professionali, quelli del responsabile della rianimazione di Locri, che sono riconosciuti da chiunque, pazienti e medici. Da giugno 2018 anche il reparto di chirurgia potrebbe ritrovarsi senza il primario. Poco tempo fa i reparti medici, che sono già coperti da una guardia interdivisionale, hanno dovuto chiedere la collaborazione dei personali estranei all'ospedale di Locri per poter fare un turno di servizio. Così come anche il reparto di pediatria, ormai da tempo supportato da esterni, l'attac non è sempre in funzione. L'esiguo numero di medici rende impossibile ricoprire tutti i turni. Si autogestiscono a suoni di salti mortali i doppi turni continui i medici del pronto soccorso, che riescono, con notevole disagio, a garantire il servizio alle utenze. Nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni volontarie dal ruolo di direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Era l'unico medico del reparto. Il reparto di rianimazione, il fiore all'occhiello dell'ospedale Locrese. Il tasso di assenteismo nel nostro reparto è zero, affermato il dottor Adamo. La disponibilità ad andare verso chi ha bisogno è assoluto, con gli anestesisti, cui ferie sono come il debito pubblico italiano, ogni anno cresce, ma non per questo. Ciascuno di noi si sottrae alla sua responsabilità, riferisce ancora il primario. Un quadro estremamente critico e preoccupante è il paradosso. Ci viene chiesto, ricorda Adamo, come operatori sanitari, di ridurre il tasso di emigrazione sanitaria. La domanda è quasi spontanea. Come si fa a ridurre questa fuga verso altri luoghi, se quello che noi riusciamo a garantire è poco, ed è uno sfogo il suo, visto che è proprio lui, il medico, che da anni nella locrede si dona ai pazienti, oltre turni di lavoro, oltre della sua stessa salute, e anche trascurando la propria famiglia, per la sua missione di dare pronta risposta al bisogno di salute dei pazienti, ha ammesso che nei mesi scorsi è dovuto emigrare per curarsi, perché alcune tecniche che servivano non erano disponibili qui da noi e mi è dispiaciuto tantissimo di dover tradire in qualche modo la mia terra a cui sono legato da profondo affetto. Non sono critiche quelle del dottor Adamo, ma una semplicissima richiesta di aiuto o, come lui ha detto, di impegno da parte di tutti, società civile compresa.